Cardellini e Luccherini senza autorizzazione, una denuncia. Nel corso di un controllo finalizzato alla salvaguardia della fauna protetta da parte dei carabinieri di San Valentino Torio e delle guardie della protezione animali di Salerno, è stato sorpreso e denunciato un uomo che deteneva a bordo della propria auto alcuni esemplari di Cardellino e Luccherino sprovvissi di anello identificativo. Questo tipo di uccelli richiedono autorizzazioni per essere detenuti se tali esemplari ne sono sprovvissisi e soggetti a denuncia anche nel caso di un solo esemplare. Le forze dell'ordine annunciano in queste ore altri controlli affinché la fauna sia tutelata.